Dottor Rosati, un ecografo che servirà soprattutto per aumentare la qualità dei vostri servizi? Sì, l'ecografo è un elemento indispensabile, noi lo utilizzeremo in sala parto. Abbiamo un parco tecnologico in ospedale buono, però con questo noi lo completiamo. Certamente questo va a vantaggio della professionalità in dubbia delle ostetriche e dei ginecologi che lavorano in questo servizio, in questo reparto e di cui credo ci sia la fierezza di appartenenza. Cosa ha di nuovo, cosa ha di diverso rispetto agli altri ecografi? Adesso non voglio entrare proprio nel dettaglio tecnico, noi in alcune fasi del travaglio e del parto abbiamo bisogno di valutare alcune situazioni e questo ci aiuta sicuramente tenendo presente che poi gli ecografi devono essere tra virgolette stanziali perché muovere ecografi da un posto all'altro in genere li rovina, quindi ha anche una sicurezza per poter avere un buon parco tecnologico senza spostamenti inutili e dannosi. Meno male che c'è la Dricesta. Sì, la Dricesta ci ha sempre aiutato, è sempre presente, è molto sensibile al bisogno soprattutto delle fasce più deboli e qui stiamo parlando delle mamme e dei bambini che sicuramente rappresentano la fascia non più debole, la fascia più preziosa e delicata. Carla Panzino è in questo momento importante, a chi si sente di dire grazie? Beh, mi sento di dire grazie ai Carabinieri di Pescara che da 20 anni con Babbo Natale Carabiniere ci sono vicini e quindi è partita lì la raccolta fondi e si sono aggiunti poi tutti i nostri benefattori da, devo dirlo, da Faieta, Moto, da Lamaico, ma anche il comune di Pescara in giunta hanno raccolto fondi e poi i soliti amici, anche i ragazzi del Megà con la mamma di Ivan che è una nostra volontaria ed è per questo che abbiamo desiderato dedicare ancora questa donazione ad Ivan perché Ivan è sempre con noi ed è un modo per averlo sempre con noi tramite la sua famiglia e tramite la mamma che fa volontariato. Nello specifico questo ecografo a cosa servirà? Beh, servirà ad aiutare le mamme in fase di travaglio. È un dispositivo medico molto avanzato, siamo fra i primi in Italia ad usarlo in sala parto e sicuramente agevolerà sia il lavoro delle ostetriche e dei ginecologi ma soprattutto anche nella mamma in fase di travaglio, soprattutto in caso di complicanza nel momento del parto.